OST 2023 continua, siamo arrivati allo stand di Tutto Capsule, o per meglio dire, lo stand della PEC SPA, proprietaria del brand Tutto Capsule. Siamo in compagnia di Vincenzo Pagliero, l'amministratore delegato dell'azienda. Caro Enzo, è un gran piacere rivedere anche te. Piacere mio Fabio di rivederti ancora. Passiamo a tutto ciò che avete presentato nel corso di queste cinque giorni. Siamo al quinto giorno e possiamo dire che questa è una fiera molto ben riuscita. Questa edizione ha visto davvero tantissimi visitatori e nel vostro caso tantissimi contatti che si sono trasformati in contratti. Assolutamente Fabio, se ti devo dire, veramente è stata un'edizione eccezionale di OST. Per noi è la quarta presenza che facciamo ad OST ed è sicuramente la migliore. La migliore per tanti motivi. Prima di tutto per l'organizzazione, per la presenza e per l'affluenza. Perché erano da anni che non si registravano così tante presenze sia italiane che fuori Italia. Lato nostro, fortunatamente abbiamo cercato di giocare un po' la nostra partita, di fare il nostro. Fortunatamente è andata bene, quindi il risultato alla fine è positivo. È positivo in termini di contatti italiani e di contatti esteri. Tutto Capsule oggi è presente in Italia, ma si consolida sempre di più in tanti paesi fuori dai nostri confini. Est Europa in primis, ma anche Europa continentale e altri paesi. Qui avete presentato dei prodotti nuovi. Mi hai detto prima nell'intervista, sai, siamo in procinto di fare un lancio in grande stile. Vogliamo quindi preannunciarli? Beh, allora, l'anno prossimo ci saranno tante novità lato prodotto. Come sai, io sono un grande amante del prodotto, delle capsule, dei sistemi e del loro contenuto. Quest'anno in Italia è un anno di cambiamento, un anno frizzante, un anno dove noi dobbiamo essere pronti a cogliere i cambiamenti, l'opportunità che il mercato ci pone. Per farlo stiamo stringendo sempre di più con player, leader nel nostro paese, degli accordi quadro. Penso ad aziende che magari anche sono proprietari di sistemi proprietari con le quali stiamo lavorando sempre maggiormente. Quindi questo ci consentirà di dare al consumatore delle scelte di qualità e delle scelte sempre ad un prezzo conveniente per il nostro tipo di consumatore. Naturalmente però voi continuate ad essere alla ricerca di player che desiderano entrare in partnership con voi per aprire un negozio tutto capsule. Allora, il nostro focus continua a rimanere ovviamente quella dell'apertura della rete dei nostri punti vendita. Noi ad oggi abbiamo circa 160 punti vendita in Italia. Di questi 40 sono di nostra proprietà diretti, gli altri sono con partner che hanno deciso di abbracciare il nostro format. Stiamo crescendo oltre al nord e al centro Italia, ci stiamo affacciando sempre di più anche al sud Italia. La ricerca di partner sta dando degli ottimi risultati anche perché la nostra gamma di prodotto è sempre più esclusiva. Quindi ci permette di essere riconoscibili e riconosciuti dal consumatore e questo si sta apprezzando. Il lavoro fatto negli ultimi 11 anni di lavoro spero si stia vedendo bene. E allora forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare e richiedere maggiori informazioni proprio sull'opportunità di entrare in rete con voi per zone ancora abbastanza libere e così, chissà, iniziare una relazione commerciale con la TEC SPA. Invito tutti a visitare il nostro nuovo sito perché è online semplicemente da una settimana che è www.tuttocapsule.it e l'email alla quale si può fare riferimento è infochiocciolatuttocapsule.it così come i nostri profili Facebook e Instagram dove è facile trovarci. Grazie Vincenzo per le piccole novità preannunciate. Noi ci rivedremo certamente a SIGEP e a Venditalia. Assolutamente, è stato un piacere Fabio, a presto. Grazie a tutti.